Adesso preparatevi a un po' di horror e magari togliamo questo, un po' di horror che si chiama fai quello che si dicono, buona apertura, grazie, no segnale, oh cacchio, è buio, oh cacchio, questo è un servizio pubblico, un annuncio del servizio pubblico, ok, rimanete in casa e aspettate altre informazioni, fai quello che si dice, sediti, mi siedo, sì, ok, ci sono documenti sensibili nella box, ok, non sono importanti per noi, non li leggere, non li leggo, ok, entra, come è entrato in casa tua, sei in questa stanza? no, 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 no No Se volevo fare questa roba giocavo a Final Death Freddy's Ma che devo fare? Redaction E però questi roba non mi li fa fare Ah ok Che devo fare? Ah forse devo cliccare? Ok Siamo soddisfatti dei suoi progressi? Ragazzi mi sto cagando sotto No non abbiamo letto i file Non li abbiamo letti Continua Redacting Ok I suoi progressi sono stati notati Cosa? 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 Ok It's over Eh? Ancora Giusto ancora un paio eh Il resto Il riposo arriva Morte La morte ti aspetta? Sono morta Sono morta Scheletro Ok Ok Hai fatto il radiazione work Ok Sta arrivando No eh Non sopravvivrai mai a questo Sta arrivando per te No Un'eternità di sofferenza ti aspetta Tu sei mio adesso? No 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 Mi aspettavo un jumpscare più potente Se non facciamo quello che dicono Cosa succede? Ho molta paura di quello che può succedere Stai scherzando vero? Madonna si sta prendo tutta Sì 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 ho molta paura Guarderò dall'OBS Non so fa meno paura guardare dall'OBS Ragazzi Ah Eh ok E' altissimo E' altissimo Spagna Il video Contro Andro E' altissimo Vai Il meteo MA MISERESA Chiudi la porta Ok Eh, come faccio? Oh, caccio No, raga, sto perdendo Ma ne metto una E me ne si staccano dieci Vediamo meglio le finestre Sì, ma se me la prendi Gatto Vabbè, abbiamo pure rotto il tetto Ma Abbiamo pure rotto il tetto Ma sta arrivando tipo Ma sta arrivando tipo un tornado Non sto capendo Posso metterla da fuori? No Sì, vabbè, ma non abbiamo più una casa Frati Frati, non abbiamo più una casa Cosa vuoi chiudere le finestre? Poi cerchiamo altre assi Ma Dai Non me la metti Regà, non me la mette Girala Gira Allora Riprendila Qui sotto Ok Ok Bedroom windows Come la chiudo? Ok Regà, ma c'ha un cadavere dentro E non guardarlo È un po' difficile non guardarlo Sai, è lì Che mi guarda Prati Non riesco a chiuderla Prati Ok Dai Ok Eh vabbè Non abbiamo più una casa Però abbiamo le finestre Abbiamo le finestre No La finestra Non posso muovermi Ma Stiamo volando via? No Cosa sta succedendo? Un mega tempestone? Non guarda in le occhie Cosa sta succedendo? Grazie a tutti